Tragedia sfiorata nel quartiere Fondo Gesù di Crotone intorno alle 13 di ieri mercoledì 9 gennaio. Due sconosciuti hanno sparato all'impazzata tra la folla. Erano armati con un fucile caricato a pallettoni e una pistola calibro 9. I due hanno esploso 15 colpi contro un'auto che è riuscito ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che da subito hanno acquisito le riprese di alcune telecamere di sorveglianza. Per la cronaca bisogna dire che alle 13 è arrivata una telefonata al 113, in cui si evidenzia che sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco nel rione Fondo Gesù di fronte alla stazione dell'autolinea Romano. Arrivati sul posto, gli agenti della squadra mobile della questura di Crotone hanno trovato i bossoli a terra e vetri infranti sulla vetrata e sulla sara cinesca di due negozi, causati dai colpi sparati all'impazzata. Panico da parte degli studenti che erano in attesa di salire sugli autobus per raggiungere le proprie case. Si tratta di studenti pendolari. Panico che ha visto questi giovani trovare rifugio in una pasticceria terrorizzata dagli spari. Pare che i due sconosciuti avrebbero sparato contro un'autovettura in sosta con qualcuno a bordo. Dunque la prima ipotesi è quella di un agguato, anche se non si comprende chi era il destinatario della sparatoria. Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, si dice preoccupato notevolmente e dichiara di confidare nelle forze dell'ordine che sono sempre impegnate per il mantenimento della sicurezza e della legalità. Anche il consigliere Procopio di Crotone e Bene Comune interviene e fa richiesta di un consiglio comunale straordinario sull'ordine e sulla pubblica sicurezza, invitando i consiglieri comunali ad associarsi alla sua proposta.